Grazie a Rossini TV per questa opportunità. Sono Ezio Bracco, presidente Hauser Volontariato Pantano. Oggi, nella giornata del 27 di novembre, abbiamo inaugurato, come dico sempre, non avrei voluto inaugurare una panchina rossa per ricordare la violenza sulle donne, avrei preferito inaugurare una panchina della felicità, ma ahimè, siamo nel 2021 e ancora dobbiamo parlare, anzi direi urlare, che ci sono uomini che abusano o che uccidono le loro mogli, le loro fidanzate e questo è veramente una cosa brutta. Bisogna cercare di creare una rete di dialogo per sostenere queste donne che inizialmente non parlano, hanno paura perché sono state annientate mentalmente, perché non hanno più voglia di ragionare e io dico sempre che la donna ha una marcia in più. Bisogna ritornare a dargli questa marcia per uscire da questa grande piaga. Ringrazio Hauser per questa occasione che mi ha dato in questa giornata di evento dedicato alle donne per la programmazione del mio film al cinema Solaris, dentro, con il centro antiviolenza, con il recupero uomini maltrattanti e poi per questa bella giornata di inaugurazione di due panchine a pantano nei piccoli parchetti, due panchine rosse dedicate appunto alla giornata alla violenza alle donne e spero veramente che un giorno non ci sia più bisogno di fare inaugurazioni di questo tipo, ricorrenze di questo tipo, ma che possiamo stringerci un abbraccio fraterno a tutti quanti.